Nome Andrea Luca Cognome Doninelli Età 54 33 Descriviti con un aggettivo come scrittore Curioso Sorprendente Descrivi Luca Doninelli con un aggettivo Maestoso Descrivi Andrea Fazioli con un aggettivo Inesorabile Quando hai iniziato a scrivere? Quando ho imparato a scrivere? 3 anni 6 anni Per chi scrivi? Per tutti Per me stesso e per chi vuole leggere Cosa pensi di chi ti legge? Riconoscenza Mi voglio bene Scrivi di giorno o di notte? Quando posso? Preferibilmente di giorno Che effetto fa a vedersi in libreria? Preoccupazione Beh, sollievo Il libro che avresti voluto scrivere? Anna Cariegna Guerra e pace Qual è la tua cattedrale preferita? L'autostrada L'uomo di Milano Tra Chiasso e Airolo Il tuo autore preferito? Tastoico Farei torto a troppi nominandone uno solo Se dico Lugano cosa ti viene in mente? La pensierina di Mario Porto La villa del di Castero Come si chiama? Mi viene in mente un faggio Un faggio che c'è in quella villa Squadra del cuore? Inter La Cremonese La tua città preferita? Purtroppo Parigi Bellinzona La donna più bella del mondo? Mia moglie Devo rispondere per la terza volta che farei torto a troppe nominandone una sola Blackberry o iPhone? Blackberry Arrivo fino al cellulare Texviller o Topolino? Texviller 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 Bearzot o Murigno? Murigno Bearzot Mike Tyson o Muhammad Ali? Mike Tyson Muhammad Ali Coppi o Bartali? Bartali Coppi Celentano o Max Pezzali? Max Pezzali Celentano Mina o Rita Pavone? Mina Mina Saluta i tuoi lettori Grazie Ciao Ci vediamo in libreria